Restano in carcere Lorena Lanceri e il marito Emanuele Bonafede, la coppia di vivandieri di Campobello di Mazzara che per mesi ha ospitato a pranzo e cena nella propria abitazione il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Entrambi sono accusati di favoreggiamento aggravato alla mafia e procurata in osservanza di pena. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di scarcerazione presentata dai legali dei due indagati. Regge dunque davanti ai giudici l'impianto accusatorio della procura di Palermo. Emanuele Bonafede, il fratello di Andrea, il cosiddetto postino di Matteo Messina Denaro, l'uomo che consegnava al boss le ricette mediche necessarie alle terapie a cui doveva sottoporsi ed è il cugino di un altro Andrea Bonafede, il geometra di Campobello che ha prestato l'identità all'ex primula rossa di Cosa Nostra. Il nonno di Andrea Bonafede inoltre era il padrino di Campobello, Leonardo, storico alleato dei Messina Denaro. Una famiglia al servizio dell'ex latitante dunque secondo gli investigatori. Ad incastrare i coniugi tra l'altro sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza di un negozio che li immortalano mentre controllano la strada per dare il via libera al latitante e consentigli di lasciare la loro abitazione indisturbato. I PM hanno scoperto inoltre che Messina Denaro, padrino di Cresima, del giglio della coppia, ha regalato al ragazzo un Rolex da oltre 6.000 euro, gesto che proverebbe l'esistenza di un rapporto storico con i due. Secondo le indagini poi Lanceri sarebbe stata legata al boss da un rapporto sentimentale. Lo dimostrano i pizzini scoperti nei quali la donna che dichiarava il suo amore a capomafia usando il nome di Diletta per nascondere la sua identità. Lanceri infine veniva usata da Messina Denaro come tramite per le comunicazioni con altre persone, ad esempio con Laura Bonafede, la maestra figlia del boss Leonardo Bonafede, che ha incontrato il padrino fino a pochi giorni prima del suo arresto. Lo provano le foto che li ritraggono insieme alla copp del paese scoperte dai carabinieri.